...è stato scato... ...boffiato... ...è... Giuliano... ...in roba che era lasciato... ...ci sta trovando qualcuno... ...un ladrone... ...pero si ha sacato al suo ufficiale... ...e rispetati... ...a grande unità... ...di al hombre... Atenzione caducos, haganse hombres pendejos. Noooo.. Noooo.. A veces siento que los traicioné. che abbandoné a mia famiglia e quindi un amico nostro, super rastafari però il più rastafari del universo e vino con un bomb, così di grande fuimos perseguiti dalla polizia lo che mi ha detto era più che prendermi perché non abbandonarsi alla prima difficoltà a mi mi piace organizzare i viaggi a mio marido non le gustano a lui piace seguir grazie a tutti 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 grazie a tutti